Buon appetito alla nostra cucina. Oggi prepariamo una ricetta medievale. La carne di rosso con una salsa straordinaria e inusuale preparata con le sede di argola. Iniziamo con gli ingredienti. Per la ricetta necessitiamo la carne, il vino rosso, l'olio di oliva e il lardo. Poi per la salsa necessitiamo le mani, gli occhi, il zucchero di canna bianco, il vinagre di vino bianco e poi le spezie, le sede di argola, l'angelo fresco, il nutto e il cinemone. Prima prepariamo la ricetta. Aggiungiamo il lardo e poi lo spaventiamo nel mortaio. Il lardo è tradizionalmente italiano curato di carne di porco. È stato il grasso del cuore preferito nel medioevo. Abbiamo scelto di cuocere la carne di porco, ma l'autore della ricetta di salsa non specifica neanche il metodo neanche il tipo di carne che abbiamo bisogno di aggiungere con questa salsa. È proprio scritto che è perfetto per accompagnare ogni carne. potete usare invece il matto, il velo, il cuore, il porco, il giro o qualsiasi altra carne che preferite. Poi aggiungiamo un po' di oliva di oliva e lo mixiamo con il lardo. Ora aggiungiamo il rosso con il lardo e l'oliva di oliva. Abbiamo scelto di spaventare la carne di porco perché questo era uno dei metodi più comuni per preparare la carne durante il medioevo. Aggiungiamo la carne di porco, seguendo la ricetta di un manoscritto di XIII secolo anonimo. Aggiungere la carne di porco con la mixtura di lardo e oliva, mantenderemo lento e tenderemo e aggiungere anche molto sapore. L'autore medievale suggerisce di controllare la temperatura di cuocere, mettendo un po' di vino sui calcoli calcoli. Questa piazza aggiungere anche un sapore molto interessante che richiede l'acqua del rosso. Aggiungeremo la carne di porco, prepariamo la salsa. Aggiungiamo nel mortaio, l'alpha nutmeg, un po' di zucchero, il cinnamone e le sceglie di arugola. L'arugola è un ingrediente usato durante il medioevo, ma non si appena appena nelle ricette. Le sceglie di arugola sono ancora più rari, ma i due sceglie di arugola e coltivati sono usati da l'antiquità. Un ufficio greco, Dioscorides, scritto che in alcuni paesi erano usati per sostituire le sceglie di arugola. Le sceglie di arugola hanno un sapore più forte che le levi e hanno dato un'aromatica e intensa alla salsa che ricorda le sceglie di arugola. Se non li trovi, puoi usare un po' levi e le sceglie di arugola e le sceglie di arugola. Ricordate che bisogna una piccola quantità di sceglie di arugola per fare questa salsa. Il sceglie di arugola è un ingrediente comune in cucina di città medievale e rinascente. Durante il medioevo era usato più come una spesa che un sceglie di arugola per balanzare gli altri sceglie. Anche il sceglie di arugola esiste anche il sceglie di arugola, ma era considerato meno prezzato e usato più da persone comuni. La migliore qualità del sceglie di arugola, secondo i cuori e i medici, e il più nourricendo e caldo, era il sceglie di arugola senza impurità. Aggiungiamo il sceglie di arugola. Aggiungiamo il sceglie di arugola. Aggiungiamo il sceglie di arugola e un po' di caldo pulito. Il sceglie di arugola è frequentemente usato nella cucina medievale. Sceglie di arugola. È stato conosciuto da l'antica romana, ma nel medioevo è diventato una delle spezie più importanti. È stato usato sia sceglie o sceglie. Per questa ricetta preferivamo usare il sceglie di arugola fresco. Poi aggiungiamo il sceglie di arugola. Aggiungiamo il sceglie di arugola e aggiungiamo un po' l'intenso sceglie di arugola. Aggiungiamo il sceglie di arugola e aggiungiamo il sceglie di arugola. L'autore di questa ricetta di arugola è un cuore venetico del XIV secolo e il suo manoscritto, convenzionalmente chiamato Anonimo Veneziano, è scritto in vernacular e è un'importante sceglie di arugola per la cucina corte dell'italia. Ora aggiungiamo il vinagare bianco. Aggiungiamo bene con gli altri ingredienti e la salsa è finita. Puoi servire il sceglie di arugola con il sceglie di arugola o con il sceglie di arugola. Questa ricetta è un'ottima modo di provare un sceglie di arugola frequentemente servito in un banquete medievale, ma con una strada diversa e incredibilmente salata. Se siete interessati in alimenti e sceglie di arugola o cercate di ricette inusuali e deliziosi, iscrivetevi al nostro canale.